ma tu parlo che dici pure tu sei un terrorista allora guarda la ma io non riesco a fare una cosa guarda ha 40 anni ho 40 anni e non riesco a fare così una madonna a bocchi fai su qua si giochi fai su qua si giochi fai su qua si giochi ma fate perdere il tono e il vosso come a me fate perdere il tono e il vosso come a me dai ce la morì devo morire mi morì Mario bro non lo so fare voglio quest'uomo non ce la fa più quest'uomo guarda non salta più proprio ma ragazzi poi rimani sul grigio ma perchè io posso camminare con un po muro ma non posso camminare su mannaccio dio ah ma disfassati ah ah basta ma disfassati quando è troppo è troppo quando è troppo è una pacienza è troppo quando è troppo è troppo è è morì muori come si muore è morì Mario bro è morì ma non si può rimanere non si può rimanere non si può rimanere quando è troppo è troppo quando è troppo è troppo non ho l'unico ma non vediamo ma non sono in grigio ma non ci ammazzi basta ammazzi 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 caro ma come sta da fare questi tartarughe merda eh è bello ciasandanna vergine ciasandanna vergine e ma come faccio che ce l'ho in bocca sono numero uno fra aspetta no ragazzi non mi fate sputare la preta zitti passo per sotto ragazzi ghi oscio mangiato un po' senza ghi oscio no hai scappato con la preta zimmi zimmi no ghi oscio ghi oscio hai scappato con il cano zitto ghi oscio ma che fa zoom ghi oscio come si zoom maron ghi oscio ragazzi pausa pausa oi guardate qua la gelosia della madonna ve l'ha dimostrato la madonna ha visto che io mi stavo facendo vedere che io premevo ha detto ragazzi vicino a Gesù Cristo e a San Pietro ha detto ragazzi c'è uno in questo momento sta facendo vedere che preme non potete far vedere che non salta avete visto a maron se credete che io non lo so questo fatto ma sono 37 anni che convivo con queste con queste pochezze con questi sotterfuggi che organizzano la madonna Gesù Cristo e San Pietro voglio vado a stare zitto proprio a casa vado a stare perché vi sento io vi sento di parlare da chi lì cazzo faccio ma rossato zitti aspeciee e puttana e b e puttana e puttana e puttana zitti vai u zitti mamma mia zitti zitti mamma mia mamma mia ma che ne hai fai morto mi hanno salvato gli ascensori magici ah no è così ragazzi aspetta 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 ragazzi ragazzi questi osso infracitati rompono cazzo ragazzi questi osso infracitati scherzo scerzo e rosto e a e a chi lo so con la molla non lo trovi più a riuscita con la macchina e a guai ma che si fa ma solo a me mi capita queste cose in questo gioco a riuscita ma ron mamma mia guai giù ce l'ho fatta zitti ce l'ho fatta zitti calma di mario non cadere in acqua mannaggia su fratruca recupera mh 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 Grazie a tutti.